Sì, si veloce, però non ce la faccio più, perché sono tre giorni di fila che vado a diarrea. A diarrea? A diarrea, molto bene. Non vuole questa. C'è bisogno di venire qua, ha perso tempo. Anche telefonicamente, insomma, potevo dargli un consiglio. Poi ci sono tanti metodi contro la diarrea. Per esempio, ho provato con limone? Sì, sì, ho provato con limone. Ho provato? Però quando lo tolgo, continuo a uscire. Non funziona.